e ciao a tutti ragazzi è già debba del suo canale salvo di nuovo 4 con cammini salvo anche oggi per croazia e nigeria terzo pronostico dei mondiali dopo la disfatta di portogallo spagna beh a parte ne ha pesato due all'italia quindi non è scrivere non si può escludere ecco non si può utilizzare la seconda maglia della nigeria perché si confonderebbe con la croazia con un tocco Oggi c'è da sudanza, per davvero fare un gol, dici no? Io ho ancora più le altre misure, poi in realtà spreco moltissimo sottoporto Modric, Subasic, Mandzukic, sembra fatto di scena Già è brutto di suo Vien, partiamo Grazie, Nigeria Sembrano undici volte messi tutto insieme Ah, c'è Ferisic No, c'è già fatto C'è già fatto di tipo una quadrata manetta Oh, no, 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 ecco No, no, ecco Poi dice cerchetti Pericic Pericic, dice cerchetti Che dirruva Che dodici livelli Diagonale è indiscutibile Sì, ma ha dormito il quattro da dietro Si, ma ha dormito il quattro da dietro Nooo, no, mi ha fatto lo stronzo Pericic dove gioca? è da un malco fai una cosa giusta tipo questa tipo questa nooo vado sul portiere nooo l'unica cosa che ho fatto un gol non forse è fuori gioco? oh male no no ci sta questo qua va a mia chi? Stinch Stinch lo so nooo ecco il terzo bravo 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 ho fatto più tiri meno in finale di Coppa Italia a questo punto qui bravo bravo due e uno figlia ci sono cinque minuti per farlo eh il primo palo è amica a fare un portiere coglione i galo ma che cassino è? i galo ma chissà da dove è chissà da che bocca è uscito no no ecco che il tuo lavoro svanisce così 2 a 1 pensavo peggio eh 8 8 tiri a 4 proprio l'opposto di prima e sono sempre con attacco totale oh bravo bravo Onasi dove gioca? in Lazio bravo bravo Onasi 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 ma come hai fatto? come hai fatto? io? si hai un palo da 3 a 0 eh ok 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 no ok 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 ancora noi ok 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 bello i uovi da fermo dai i uovi quello più bello che abbia fatto ok 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 e questa è FIFA questo è l'IO dico il so 18 il chu introdurranna scusta Tutti che la guardano No, non posso prendere il quarto adesso Esci Ci metterà la mano Non è un altro modo che ce la palla E' un tre peric, non so Impresa, sta per uscire Facciamo uscire lì perché non c'è No, scusa No Appena è entrato, non sa se è rotto Raga, l'ultimo sforzo Oh, 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 oh Real Madrid No 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 si rimontato due volte vabbè ragazzi speriamo che ci iniziano a ripartire così vi saluto lasciate che si mette nella prossima